Ciao, benvenuto o benvenuta nel mio canale. Io mi chiamo Serena e in questo spazio voglio condividere con te le ricette un po' della mia infezione e un po' della tradizione mantovana. Sono ricette molto buone che spero possono esserti utili nella vita di tutti i giorni. Quindi se non vuoi perderti nemmeno una ricetta iscriviti a questo canale. Puoi anche seguirmi sui social Instagram e Facebook dove potrai chiedermi consigli o darmi anche suggerimenti che sono sempre ben accetti. Ti aspetto. Ciao!